Ciao a tutti e benvenuti a Mr. Paloma Podcast. In questo episodio parleremo di taggare su Facebook i followers. Facebook è il social network più utilizzato al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi. Gestire efficacemente una pagina Facebook è fondamentale per poter comunicare e promuoversi su questa piattaforma. Uno degli aspetti da padroneggiare è come aumentare la portata organica dei post, per raggiungere più persone anche senza investire in sponsorizzazioni. In questo articolo vi sveliamo un trucco molto utile che consente di taggare tutti o una parte dei vostri follower, così da inviare loro una notifica e aumentare le possibilità che vedano il vostro contenuto. Si tratta di una funzionalità nascosta di Facebook, una sorta di scappatoia per aggirare parzialmente il suo algoritmo. Ecco come funziona. La chiocciola è seguita da follower per taggare le pagine o mettere in evidenza per i profili personali. Potete usarlo una volta al giorno e una settimana. Così parte una notifica ai follower, anche se attenzione perché su gruppi molto grandi potrebbe non funzionare. Questo trucco va usato con saggezza per non infastidire i follower. Utilizzatelo solo quando necessario e su contenuti di valore. Controllate poi l'aumento di copertura del post. Sfruttare al meglio strumenti come questo è indispensabile su Facebook, dove i contenuti organici sono sempre più penalizzati. Provate quindi anche voi questo semplice trucco per taggare follower e aumentare l'engagement? Grazie per aver ascoltato. Se vi piace il podcast, non dimenticate di seguirci sui social media, visitare il nostro sito web mrpaloma.com